Io a questo punto darei la parola a Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, non approfitterò di questa occasione per alimentare polemiche, anche se siamo in campagna elettorale, ma credo che sia un importante confronto per dare una prospettiva di visione al Paese dei problemi attualmente che abbiamo. Sono problemi molto precisi, sono delineati negli scorsi mesi, adesso si stanno rivelando in tutta la loro complessità e anche stanno innescando una spirale recessiva molto severa sul piano economico che avevamo denunciato da tempo. Io credo che questo sia il tempo per l'Italia anche di approfittare saggiamente, intelligentemente, anche per cogliere opportunità di cambiamento e anche pur nella difficoltà del momento di investimento, di sviluppo, migliorare la coesione e anche l'autentica solidarietà che fa forte una nazione. Investire in energia pulita, nella diversificazione degli approvvigionamenti, in una vera transizione ecologica, io credo che un ritorno al passato significherebbe aumentare soltanto i costi e quindi i costi sociali, finanziari e abbracciare ancora di più questa spirale recessiva. Vorrei ricordare che la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, prima che scoppiasse il conflitto russo-ucaino, aveva preventivato la necessità di investimenti pubblici e privati per circa 360 miliardi l'anno in transizione ecologica. Adesso siamo oltre i 400 miliardi. C'è un rapporto di Deloitte che mi ha molto colpito perché quantifica il fallimento della sfida del contrasto dei cambiamenti climatici. Noi andremo ad avere, dice questo rapporto, un costo di 178 trilioni di dollari nei prossimi 50 anni. Al contrario invece, abbracciare questa sfida potrebbe generare 43 trilioni di dollari di benefici aggiuntivi nei prossimi 5 decenni. Ecco, il mancato investimento quindi di oggi nella giusta direzione significa una moltiplicazione dei costi sociali incontrollati per domani. E guardate che abbiamo già toccato con mano politiche sbagliate operate nel passato più recente. Considerate cosa avremmo potuto fare e come avremmo potuto reggere molto più efficacemente il periodo della pandemia se non avessimo definanziato per circa 40 miliardi di euro l'anno, 40 miliardi di euro complessivi, nello scorso decennio, il Servizio Sanitario Nazionale. E ancora, immaginate anche come potremmo oggi affrontare la crisi energetica se l'Unione Europea avesse per tempo investito e avresse abbracciato il Green New Deal non solo nel 2019. Ancora, citiamo dati concreti che poi devono orientare le nostre valutazioni e le nostre scelte. c'è uno studio pubblicato nell'Oxford Review of Economic Policy pubblicato da 5 autorevoli economisti, anche premi Nobel, che ci dice che un milione di dollari speso in infrastrutture per energie rinnovabili genera 7,5 posti di lavoro a tempo pieno. migliorare nell'efficienza energetica, spendere soldi, quel milione nell'efficienza energetica genera 7,7 posti di lavoro, se viene speso invece nelle fonti fossili genera solo 2,6 posti di lavoro. Quindi vedete, investire nel Green Deal triplica, migliora per un triplo i posti di lavoro rispetto alle fonti fossili. Ecco allora perché noi dobbiamo investire ma nella giusta direzione, dobbiamo abbracciare la transizione ecologica, la transizione energetica e dobbiamo avere anche il supporto in questo momento di difficoltà di politiche monetarie adeguate da parte della BCE. Noi è vero che abbiamo un'inflazione che non vedevamo da decenni, però si è data un'inflazione importata, io dico da domanda determinata dai colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento e non determinata quindi, è determinata ovviamente ai costi epocali dell'energia. Allora io credo che, dubito che l'abbandono dei programmi di acquisto di BCE, così come un ulteriore percorso di aumento dei tassi, siano le scelte migliori per tenere a bada questo tipo di inflazione. L'inflazione è una tassa nefasta, una tassa occulta che erode il potere di acquisto delle famiglie, penalizza soprattutto quelle più povere, ma non deve diventare il pretesto per ritornare a ricette del passato, dell'austerità che non ci hanno fatto crescere, ci hanno strozzato completamente con il risultato che siamo stati sempre il fanalino qui in Italia, il fanalino di coda in Europa. E ovviamente qui nessuno sta dicendo che vuole dei pasti gratis, però anche l'extra deficit, un debito come obiettivo in sé, non va perseguito, ma in un quadro serio, ragionato, prudente, autorevole, di politica economica, di politica sociale, ecco, anche questo diventa uno strumento per proteggere il nostro tessuto imprenditoriale, il nostro tessuto sociale e predisporci a una crescita che è l'unica prospettiva, una crescita del segno della sostenibilità ambientale, della sostenibilità finanziaria e sociale. Ovviamente occorre anche una risposta da parte dell'Unione Europea condivisa, solida, forte. Io ho parlato già a febbraio di Energy Recovery Fund, semplicemente perché ormai avevamo tutti i dati ed è soltanto come abbiamo fatto nel momento più duro della pandemia, una risposta europea ci avrebbe preservato dalle difficoltà attuali. E guardate, prima ancora che il tetto al prezzo del gas, io ho sempre parlato di un piano di acquisto comune che i tecnici hanno già elaborato, gli esperti hanno elaborato, chiaramente perseguibile, poi con criteri di partizione interna tra gli Stati europei, oltre al piano di stoccaggio comune, saremmo diventati la più grande potenza acquirente del gas nel mondo, avremmo potuto sicuramente indirizzare anche con forte potere contrattuale e condizionare i prezzi. Per quanto riguarda la tradizione energetica, io credo che il modello del superbonus sia un modello assolutamente da privilegiare, ci ha consentito, non voglio ripetere a questo uditorio tutti i vantaggi rispetto agli investimenti fatti, ma dico semplicemente che secondo me il modello della libera circolazione di crediti di posta è un modello che noi dobbiamo privilegiare, non so perché ci consente la grande riduzione dell'emissione di CO2, una rigenerazione urbana ci ha consentito di essere la locomotiva d'Europa nel settore delle costruzioni, che lo ricorderete era nel 2018 quando iniziai come Presidente del Consiglio completamente disastrato, ma ci consentirebbe anche un meccanismo ovviamente per generare anche quella massiccia liquidità a favore di investimenti ad alto moltiplicatore. Ecco perché noi parliamo di un superbonus energie imprese che vorremmo collegare a transizione 4.0 è chiaro che poi dobbiamo introdurre in prospettiva un controinteresse ridurre quel 110 a una misura un po' più bassa in modo da incentivare anche più efficacemente il controllo dei prezzi, ma ricordo anche qui non diffondiamo fake news, in Italia non c'è stato un maggiore aumento dei costi nel settore delle costruzioni rispetto agli altri paesi europei, tutt'altro. Un altro strumento su cui puntare per una transizione energetica sono le comunità energetiche, ci consentono di investire massicciamente nel fotovoltaico, ci consentono la riduzione dell'energia un costo strutturale del taglio delle bollette. Cashback sul fisco che abbiamo compreso il governo che sentirà ovviamente per il senso che è la parola fisco che si le presidente si era interrotta la linea un attimo al cashback si è interrotta la linea se può sì vorrei ricordare che con quella misura noi abbiamo avuto un aumento incredibile dello speed delle identità digitali quindi abbiamo fatto un percorso in avanti pazzesco per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione arrivando fino a 27 milioni di speed ora sono 30 e ovviamente non possiamo non parlare anche del lavoro per quanto riguarda il lavoro noi siamo innanzitutto per un'economia reale che offre un lavoro anche di qualità offre la possibilità ai nostri lavoratori alle nostre lavoratrici ai nostri giovani di costruire un futuro e guardate per quanto riguarda gli investimenti dell'economia reale quelli vanno favoriti invece quelle che sono le speculazioni nel settore ovviamente del nel settore della finanza andrebbero colpite ad esempio soprattutto con il cosiddetto high frequency trading a livello europeo cioè quelle speculazioni molto rapide di titoli finanziari che come dire concentrano solo sull'immediato guadagno speculativo tutte le risorse noi la cosa che preoccupa il nostro futuro se guardiamo il trend attuale io non sono affatto sereno sui numeri per quanto riguarda i livelli occupazionali perché abbiamo il record dei contratti a termine 3 milioni 160 mila contratti a termine 9,2% sono di un solo giorno e la maggior parte non superano 30 giorni il lavoro come sapete è sottopagato c'è una perdita del potere di acquisto siamo il fanalino anche qui in Europa è chiaro che dobbiamo investire lo abbiamo detto a tempo sul taglio del cuneo fiscale non solo a favore dei lavoratori anche nelle imprese Presidente devo dirle che è già un minuto oltre il tempo assegnato e allora termino dicendo che ovviamente dobbiamo semplificare abbiamo detto che l'IRAP l'abolizione deve essere a favore di tutti e anche per quanto riguarda noi siamo per uno statuto degli imprenditori che dia chiarezza certezza del diritto a chi investe a chi ha bisogno ovviamente di business plan che abbiano tempi certi e anche una giustizia certa grazie lei ha guidato il paese in due occasioni con due governi diversi la seconda volta in una situazione molto difficile quella della pandemia in cui ha potuto verificare quanto sono dure le compatibilità dell'azione di governo e quanto pesi il contesto internazionale ora ha scelto un'avventura solitaria e richiamo a temi che spesso sono stati contestati hanno creato preoccupazione soprattutto per l'assetto dei conti pubblici ha detto anche a un certo punto che l'agenda Draghi non le piace chiaramente anzi è addirittura pericolosa in cosa è pericolosa e non è una scelta un po' in contraddizione con quella con l'esperienza di governo che lei ha fatto precedentemente vorrei chiarire che non ho detto che l'agenda Draghi direttore è pericolosa assolutamente no ho detto che qui si parla di un'agenda Draghi ma un'agenda voglio dire che non vedo ancora scritta e non vedo una prospettiva futura di intervento e non è semplice dire che l'agenda Draghi è dire di sì e di no tutti i governi banalmente hanno sempre detto di sì e di no quindi non può essere questo il contenuto programmatico di un'azione di governo tanto più in periodo di emergenza e vorrei ricordare che quei punti che noi abbiamo cercato di mettere sul tavolo di un confronto politico erano dei punti di confronto non erano un prendere un lasciare punti che richiedevano una risposta da parte del governo in carica e delle altre forze politiche perché solo con un programma definito se mancano sette mesi alla scadenza naturale si può affrontare l'emergenza che stiamo affrontando quindi è un problema di responsabilità con divisione di obiettivi specifici anche limitati anche contenuti anche con deno ma il confronto è fondamentale quanto al metodo Draghi è lì che ho detto che io trovo pericoloso che delle forze politiche che dovrebbero assumersi la responsabilità di offrire una guida un progetto una visione di paese si rifugino in un cosiddetto metodo quando lo stesso interessato in questo momento io non so se qualcuno ha parlato con l'interessato e ha chiesto se c'è disponibilità a rinnovare un impegno di governo perché se no stiamo parlando del nulla per quanto riguarda il metodo Draghi purtroppo devo dire che è un metodo emergenziale non si può governare un paese senza un confronto una dialettica politica e non sto parlando di bandierine perché sono perfettamente consapevole che spesso le forze politiche come dire si distraggono rispetto al destino collettivo e hanno delle premure molto di bottega ma se parliamo ovviamente del problema delle emergenze energetica del problema di intervenire sul costo del lavoro tagliare il costo del lavoro se parliamo di un precariato diffuso di salari minimi da 2-3-4 euro lordi queste non sono premure di bottega allora se c'è il rifiuto del confronto dialettico io dico che noi siamo in democrazia le elezioni lo dico per tutti gli orfani del metodo Draghi ci sarebbero comunque state dopo 5 mesi aggiuntivi e guardate che tutte le emergenze a partire dal conflitto ucraino dove non mi sembra si palle più di negoziato rimarranno sul tavolo anche a febbraio marzo quindi chi sposa questo metodo o deve cancellare la data delle elezioni diciamolo francamente o si deve rassegnare assumersi delle responsabilità grazie grazie a Giuseppe Conte Presidente del Movimento 5 Stelle questo è ciò in cui crediamo questo è ciò che siamo questo è ciò che siamo che è un'altra che è una cosa che è un'altra Grazie a tutti